ma tra i pentastellati prende forma l'idea di un conte ter pressing sul premier per sedersi al tavolo con italia viva e rivedere l'intera squadra chi ha lavorato male deve andar via dall'esecutivo ribolle il movimento c'è chi vuole riaprire un dialogo con matteo renzi e chi invece chiude ogni porta di certo il premier giuseppe conte sta scrivendo il discorso che pronuncerà lunedì alla camera e martedì al senato ed è deciso ad andare fino in fondo fino alla conta per vedere se verrà fuori la pattuglia dei costruttori così il premier preferisce chiamarli in suo soccorso nei 5 stelle chi ha gestito la trattativa con i responsabili con coloro cioè dovrebbero salvare il governo conte secondo dopo l'abbandono di italia viva ora è finito sotto accusa si guarda il pallottoliere ma i calcoli non tornano non ce la facciamo non abbiamo i numeri e non possiamo governare con i transfughi nel mirino finiscono il sottosegretario riccardo fraccaro e il capo delegazione alfonso bonafede che in un filo diretto con il premier conte hanno provato a rintracciare potenziali senatori da arruolare ma niente da fare la trattativa sembra non stia decollando come spiega un componente grillino dell'esecutivo a mastella non puoi offrire le briciole e infatti ecco il leader dell'udeur mi tiro fuori anche ludic di lorenzo cesa ha ufficialmente declinato l'invito ed è così che verso l'ora di pranzo scatta il panico tra i pentastellati dobbiamo tornare a parlare con renzi lo dice chiaramente anche la deputata federica di eni serve che ognuno faccia un passo indietro crimi e bonafede su tutte le furie riuniscono il direttivo dei gruppi e al termine del quale diffondo una nota celandosi dietro la dicitura fonti si legge ribadita la compattezza intorno a conte non è in discussione l'impossibilità di qualunque riavvicinamento con renzi di qualunque riavvicinamento con renzi